In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni Divina Volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero darvi tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti che sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò sovra una regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Padre Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Padre Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Padre, tu che sei l'amore, tu che sei il perdono, tu che sei la gioia, Padre, tu che sei mio Padre, tu che sei la vita vera, Padre, tu sei la mia volontà. Padre, tu che sei la vita vera, Padre, tu che sei la vita vera, Padre, tu che sei la vita vera, in tutta la creazione, per poter amare e glorificare come ama e glorifica lo stesso fiat divino in tutte le cose create, ma mentre ciò facevo, pensavo tra me. Il mio dolce Gesù mi fa girare per tutta la creazione, come per raggiungere la sua volontà in tutti gli atti suoi, tenere la compagnia, dargli un mio ti amo, un grazie ad un mio ti adoro e chiedergli che presto venga il suo regno ma io non so tutto ciò che fa questo volere divino in ciascuna cosa creata vorrei saperlo affinché uno sia l'atto mio col suo ora mentre ciò pensavo il mio sempre amabile gesù tutto bontà è uscito da dentro il mio interno e mi ha detto alla piccola figlia del mio volere è giusto che sappia ciò che fa colui da donde è uscita la sua origine tu devi sapere che il mio fiat eterno non solo riempie tutta la creazione tu devi sapere che il mio fiat eterno non solo riempie tutta la creazione ed è vita di ciascuna cosa creata ma tiene sparse tutte le nostre qualità in tutto il creato perché la creazione doveva servire di paradiso terrestre all'umana famiglia e quindi doveva essere l'eco delle beatitudini e felicità del cielo se non conteneva le gioie e i contenti della patria celeste come poteva formare la felicità della patria terrestre molto più che una era la volontà tanto quella che beatificava l'imperio tanto quella che doveva felicitare la terra ora se tu vuoi sapere cosa fa la mia volontà nel cielo in quell'azzurro che si vede sempre fermo e disteso sul capo di tutti non c'è punto che non si vede cielo esso di notte e di giorno è sempre al suo posto sicché la nostra volontà tiene sparsa la nostra eternità la nostra fermezza che mai si muta è sempre nel suo equilibrio perfetto né per qualunque circostanza si cambia mai e mentre ama glorifica la nostra eternità il nostro essere incrollabile felicità la terra e dice all'uomo guarda prendi per modello il cielo che ti è sempre disteso sul capo si sempre fermo nel bene come lo sono io da qui sono sempre disteso a proteggerti affinché anche tu come secondo cielo che è popolato di stelle che all'occhio tu ti sembrano tanto legate al cielo che si può dire che le stelle sono figlie del cielo così anche tu se sarai fermo nel bene il cielo dell'anima tua sarà popolato di stelle come tanti parti e figli tuoi sicché facendo il tuo giro nella creazione quando giungi al cielo anche tu unita con la nostra volontà ami e glorifichi la nostra eternità il nostro essere incrollabile che mai si muta e pregala che renda ferme le creature nel bene affinché siano il riflesso del cielo e godano la felicità che porta un bene continuato e mai interrotto onde seguendo il tuo giro nello spazio della creazione giungerai al sole astro più vicino del cielo alla terra per portare alle creature la sorgente delle felicità terrestri e le similitudini delle beatitudini e gusti della felicità della patria celeste vuoi tu dunque sapere cosa fa la mia volontà nel sole glorifica la nostra luce interminabile i nostri gusti innumerevoli ama e glorifica le infinità delle nostre dolcezze le indescrivibili tinte delle nostre bellezze e col suo calore fa eco al nostro immenso amore o come ci decanta il sole ama e glorifica il nostro essere divino e come la nostra divinità svelata beatifica con atti sempre nuovi tutta la patria celeste così il sole eco fedele del suo creatore portatore celeste della maestà suprema velato dalla sua luce nella quale la mia volontà domina e regna porta alla terra la felicità terrestre porta la sua luce del suo calore porta la dolcezza di gusti quasi innumerevoli alle piante alle erbe e frutti porta il calore ed il profumo ai fiori e tante varie tinte di bellezza da felicitare ed abbellire tutta la natura o come porge il sole cioè la mia volontà nel sole per mezzo delle piante dei frutti dei fiori alle umane generazioni la vera felicità terrestre e se non lo godono pienamente perché si sono discostate da quella volontà che regna nel sole e la volontà umana mettendosi contro la divina spezza la sua felicità è la mia volontà velata nella luce del sole che dice all'altezza della sua sfera mentre ama e decanta le nostre qualità divine dice all'uomo si sempre luce come lo sono io in tutto ciò che tu fai affinché la luce ti converta tutto in calore e diventi come una sola fiamma d'amore per il tuo creatore guardami con l'essere io sempre luce e calore posseggo la dolcezza tanto è vero che la comunico alle piante e dalle piante a te anche tu se sarai sempre luce e calore possederai la dolcezza divina non avrai più fiele e dire nell'animo tuo possederai i gusti e le varie tinte delle bellezze dell'essere supremo sarai solo al pari di me molto più che dio mi ha fatto per te e tu sei stata fatta per lui quindi è giusto che sei più sole di me vedi figlia mia quante cose tieni da fare unita con la mia volontà in quella sfera del sole tieni da decantare amore e glorificare la nostra luce il nostro amore le nostre infinite dolcezze i nostri gusti innumerevoli e la nostra bellezza incomprensibile e tieni da impetrare per le creature tutte le qualità divine che contiene il sole affinché la mia volontà trovando le qualità divine in mezzo ad esse venga a regnare sveltamente col suo pieno trionfo in mezzo alle umane generazioni ed ora figlia mia scendiamo nella parte bassa della terra portiamoci nel mare dove sono ammantate masse di acque cristalline simbolo della purità divina queste acque camminano sempre non si fermano mai sono senza voce e mormorano sono senza vita e forti in modo da formare tanto alte le loro onde da travolgere mettere in frantumi nave genti e cose e poi scendere nel loro lido dopo che hanno ottenute le cose che hanno investite pacifiche come se nulla fosse continuano il loro solito mormorio o come la mia volontà nel mare decanta ama e glorifica la nostra potenza la nostra fortezza il nostro moto eterno che ma si ferma e se la nostra giustizia forma le sue giuste onde fragorose da atterrare città e genti come mare pacifico dopo la tempesta la nostra pace mai è perturbata e la mia volontà velata dalle acque del mare dice all'uomo sicuro come queste acque cristalline ma se vuoi essere puro cammina sempre verso il cielo altrimenti ti imputri diresti come si imputri direbbero queste acque così pure se non camminassero sempre il mormorio della tua preghiera sia continuo se vuoi essere forte e potente al pare di me se vuoi atterrare più forti nemici e la tua volontà ribelle che mi impedisce di svelarmi ed uscire da questo mare per venire a regnare in te estendere in te il mare pacifico della mia grazia possibile che vuoi essere al di sotto di questo mare che tanto mi glorifica anche tu decanta ama glorifica la nostra purità la nostra potenza fortezza e giustizia e unita con la mia volontà che ti aspetta nel mare come figlia sua il nostro eterno moto verso le creature per farle del bene il mormorio continuo del nostro amore per mezzo delle cose create che mentre mormora amore vuole il contraccambio continuo del mormorio dell'amore continuo delle creature e preghi la mia volontà che dia a loro le qualità divine che esercita nel mare affinché venga a regnare in mezzo a quelli che la tengono respinta in tutta la creazione perciò se vuoi sapere che cosa fa la mia volontà in tutta la creazione gira in essa ed il mio fiat trovando la figlia sua in tutte le cose create si svelerà e dirà a te ciò che fa verso la divina maestà ed il richiamo per le lezioni che vuole dare al creatore ottimo anche il brano di oggi è un brano profondamente contemplativo cielo solo e mare sono le creature verso cui il signore ci insegna e ci esorta a volgere lo sguardo e qui di fatto gesù da delle spiegazioni unità delle luci su alcune realtà che piano piano imparando a pregare nella divina volontà dovremmo essere da noi stessi diciamo così capaci di renderci presenti capaci di comprendere capaci di intuire e poi di fare nostro no la bella domanda che fa luisa a gesù e io non so che cosa fa questo tuo volere divino in ciascuna cosa creata e gesù da due risposte una generica che riguarda tutte le cose create e poi scende nello specifico di queste tre creature ora tutto quello che gesù dice come già ho accennato dovremmo noi essere capaci appunto di farlo nostro perché quelle stupende cose che gesù dice e che ci mostrano ciò che la divina volontà opera in certe creature evidentemente al nostro vantaggio al nostro beneficio alla nostra edificazione qualche volta anche al nostro sprone per poterla imitare oltre che farne nostra la sua vita tutte queste cose sono come dire una delle motivazioni una delle cause delle ragioni di essere dei giri perché quello che dice gesù molto semplicemente è questo qui allora cosa fa la mia volontà è tutto detto diciamo nella prima spiegazione la mia volontà dice riempie la creazione ed è vita di ciascuna cosa creata che significa l'abbiamo visto tante volte dio la causa dell'essere dovunque noi ci giriamo dovunque questo qui è anche vedendo i muri della nostra casa il muro della nostra casa parla della volontà di dio perché perché il muro della nostra casa è fatto di mattone è fatto di intonaco cioè di materie di sostanze che si trovano sul pianeta terra e che non si sono fatte da solo certo poi muro della nostra casa l'intelligenza dell'uomo ha imparato a utilizzare queste materie quindi poi ad assemblarle quindi a fare le cose utili secondo anche questo il progetto divino del creatore che il creatore ci dà tutti quanti gli strumenti perché noi possiamo cooperare con lui e perfezionare il mondo no quindi come sappiamo dio non solo è causa dell'essere perché lo crea e da nulla d'accordo anche come dire le caratteristiche specifiche di una pietra o di un mattone questo lo sanno benissimo ci sono gli scienziati da un punto di vista come dire appunto qualitativo quindi di composizione chimica degli atomi che compongono quella certa sostanza ha una sua specificità distinta da tutte le altre cose create quindi questa viene da dio questa è la prima cosa la seconda cosa ma non basta che il signore come sappiamo dopo averle create le cose le mantiene nell'essere perché tutto ciò che è perdura nell'essere perché dio lo fa perdurare nell'essere lo mantiene in vita ecco questo diciamo che sarà sempre saputo basta aprire i documenti del magistero della chiesa basta aprire i testi dei grandi teologi pensiamo a sant'ommaso d'aquino che ha spiegato benissimo queste cose e lo si trova quindi non c'è bisogno di attendere questi scritti solo che ecco qui in verità anche questo lo sapevamo insomma lo sapevamo almeno dal racconto della creazione del libro della genesi dice ma non c'era solo non c'è solo questo cioè quindi non soltanto tutte le qualità sono sparse nel creato nostre ma attenzione noi abbiamo fatto tutto questo perché la creazione doveva essere il paradiso terrestre essere l'eco delle beatitudini e della felicità del cielo cioè come noi sappiamo Gesù ha creato l'uomo perché fosse felice in paradiso se come speriamo ci andremo un giorno la vita l'ira del paradiso la fonte della beatitudine è la volontà divina se noi potessimo aprire uno squarcio d'accordo vedere il cielo sentiremmo una parola sola fiat volonta stua perché l'ira di divina volontà è perfettamente conosciuta e si vede come è essa la causa di tutto il bene possibile immaginabile della beatitudine degli eletti e dei glorificati di tutto lì ce n'è proprio l'esperienza diretta e sensibile qui noi purtroppo specialmente dopo la colpa d'origine che abbiamo perduto questo questo legame non ne siamo consapevoli non è una cosa alla immediata nostra portata però anche se non ne siamo consapevoli questo eco della beatitudine rimane in tutte le cose create e quindi quanto più uno impara a riconoscere gli atti della divina volontà nelle cose create e quanto più come dire impara a a ricevere di nuovo a riscoprire a fare suo tutto quel mare di felicità che c'era e che c'è nelle cose create in tutte ecco poi risuscende nel detto quindi questo deve essere da punto di vista generale cosa fa la mia volontà la mia volontà è fonte della vita è fonte della permanenza della vita ed è fonte della felicità quindi dovunque ti giri aspira respira la vita che la cosa più bella che esiste e aspira respira quella felicità che io sono ho e do a chi non chiude il cuore per riceverla poi scende nei dettagli dice guarda l'azzurro del cielo con tutti quanti i puntini delle stelle no dovunque ti giri noi sappiamo che questo evidentemente è un fenomeno ottico no sappiamo che quello che sta sopra la nostra testa oggi lo chiamiamo lo spazio insomma no però chi chi l'ha fatto sapeva bene insomma no che attraverso il gioco sole terra si sarebbe rappresentato questo spettacolo cioè questa distesa azzurra interminabile sopra la nostra testa no che noi appunto chiamiamo cielo sta sempre al suo posto non si muove no la nostra fermezza che mai si muta ed è sempre nel suo equilibrio perfetto attenzione né per qualunque circostanza si cambia mai dice guarda prendi per modello il cielo si sempre fermo nel bene come lo sono io ma non solo questo con ma sia impara ad essere santamente imperturbabile che significa questo non è che noi siamo di ghiaccio d'acciaio e le vicende che accadono che ci accadono a noi ai nostri familiari alla società in cui viviamo alla chiesa a tutto quello che vogliamo ci lasciano come dire come dire ce ne infischiamo quindi siamo come dire esprezzanti indifferenti no ma un conto è non essere esprezzanti indifferenti un conto è turbarsi perdere l'equilibrio nelle reazioni nelle manifestazioni d'accordo e farsi prendere dall'agitazione dalla tristezza dal panico questo no guarda il cielo d'accordo rimani saldo rimani uguale guarda me dio non cambia dio non si turba dio non crolla dio non crolla dio non cessa di fare il bene siamo quante volte noi nelle nostre reazioni malvagie se no il male non lo faccio però se uno fa sempre il bene dopo diventa uno sciocco no se qualcuno ci fa qualcosa di male bisogna difendersi per carità come dire da un punto di vista etico ecco e anche come dire giuridico a certe condizioni questo può anche essere lecito no ma questo non è espressione dell'equilibrio perfetto bellissimo questa circostanza di colui che per qualunque circostanza non si cambia mai qualunque circostanza attenzione eh sono per carità io sono sempre rimasto tranquillo per tutta la vita adesso però con sta pandemia ma come si fa sta tranquilli ecco ecco qua qualunque circostanza la pandemia è qualunque altra cosa è qualunque circostanza guarda prendi per modello il cielo e si sempre fermo nel bene come lo sono io e poi guarda le stelle tutti questi puntini stelle nella tradizione ascetica simboleggiano proprio le virtù no e come facciamo ad avere l'anima il cielo della nostra anima popolato di stelle rimanendo fermi nel bene che si fa sempre dovunque comunque e anche potenzialmente a chiunque a prescindere dalle circostanze bellissimo questa espressione che usa gesù il nostro essere incrollabile che mai si muta prega che renda le creature ferme nel bene anche me può dire possiamo fare anche per noi stessi affinché sia un riflesso del cielo perché se vivi così tu godrai la felicità anche qui che porta un bene continuate mai interrotto si rifletta bene su questa cosa cioè la causa dei problemi guardate questa è una cosa non profonda di più si cambia modo di vivere se si vive in questo in questo in questo orizzonte è la vita un'altra cosa dio sta dicendo il cielo non sono le cose che accadono sotto il cielo ne accadono tutti i colori ma il cielo rimane fermo il cielo rimane fermo quindi non è importante quello che accade ma è importante come tu lo vivi come tu reagisci questo è il problema questa è la cosa seria questa è la cosa grossa adesso non c'è tempo siamo verso la fine della meditazione ma si potrebbero fare una montagna di esempio anche le cose più drammatiche d'accordo anche le cose più drammatiche vuoi dunque sapere passiamo al sole e il sole sappiamo il sole è luce ma dio è luce luce di di conoscenza dio è luce di amore guarda il sole e apriti alla luce che dio ti porta e all'amore che dio ti porta in interrottamenti attenzione dice guarda che se ti metti sotto questo raggio del sole sai cosa succederà comincerai anche essere dolce perché conseguenza del calore è la dolcezza tu sarai sempre luce calore e possederei la dolcezza divina luce calore no quindi portare in giro luce non tenebre portare in giro la verità il discernimento la fede l'amore dovunque ci giriamo il calore a tutti quello che tutti vorremmo avere noi tutti vorremmo essere amati e poi la dolcezza e cosa cosa promette gesù non avrai più fiele e dire nell'animo tuo quante volte stiamo avvelenati o arrabbiati avvelenarsi che è sempre una reazione valorda dinanzi a problemi prove difficoltà disgrazie dispiaceri il fiere no fiere amarissimo tutta quanta quella vita quella amarezza che tanti si portano dietro quella tedio di vivere no attenzione che tutti quanti lo attribuiscono alle circostanze quindi le cose che accadono ma non è così non è così dipende dalle nostre reazioni non dalle circostanze e poi il mare Gesù è veramente un un grande maestro il mare tante volte abbiamo fatto questo esempio ci sta la tempesta ma la tempesta sotto nella profondità del mare non si è mai avvertita e poi il mare fa spuma fa un marasma d'accordo e poi ritorna tutto quanto placido e tranquillo come se niente fosse qual è il segreto del mare questo lo sappiamo il mare che ci affascina tanto il mare è eterno movimento è pensiamo la differenza che c'è tra le acque del mare e uno stagno lo stagno sono acque putride d'accordo acqua acqua acque fetide pensiamo alla palude insomma che che popolava la mia amatissima terra dove io sono nato un tempo no non c'è vita dove non c'è movimento allora che significa tutto questo cosa devi fare quando contempli la bellezza del mare allora pensa a tutte queste cose e comincia a pensare il mormorio della mia preghiera sia continuo se vuoi essere forte e potente al pari di me queste cose grosse che ci sono sto signore vogliamo essere forti e potenti al pari di dio io posso essere forte e potente al pari di dio è certo ci sono scherze ci sono scherze non dice le bugie qual è il segreto il mormorio della tua preghiera sia continuo se vuoi atterrare i più forti nemici la tua volontà ribelle che mi impedisce di svelarmi e stendere in te il mare pacifico della mia grazia ecco perché la preghiera è così importante ma come tu scopri l'importanza della preghiera guardando il mare sì se capisci questa sottile similitudine che fa Gesù il segreto della bellezza del mare di tutta la vita che c'è è il movimento delle acque e il movimento delle acque simboleggia quel mormorio della preghiera continua ci sono dei momenti che dedichiamo alla preghiera ci sono? quanti sono? come sono? ma poi c'è quel mormorio quello stare qui si impara nella divina volontà alla presenza di Dio che piano piano diventa incessante ininterrotto e quindi ogni volta che noi vediamo che combiniamo qualche guaio piccolo grosso stiamo certi che siamo usciti cioè la nostra preghiera non sta mormorando più e ricominciamo a fare le cose di testa nostra con le nostre forze con le nostre opere con le nostre chiamiamole così tra virgolette abilità che non sono abilità sono tutte quante disabilità e combiniamo guai e ricominciamo ad attivare in noi dei sorgenti di ogni tristezza di ogni angoscia di ogni affanno di ogni desolazione sono molto consolanti queste parole di Gesù anche molto istruttive ecco ricordiamole lo dico a me per primo e e continuiamo questo lavoro perché Gesù ci ha dato come dire un input ma questa operazione il nostro intelletto aiutarlo dalla grazia è capace di farlo basta che ci si applica e comincia ad andare a cercare tutto quello che parla di Dio e della sua potenza della sua potenza e del suo amore in tutte le cose create questo è un piccolo esempio il resto è lasciato dalla nostra santa fantasia commossa dalla grazia e illuminata dall'amore di Dio grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Adesso ci volgiamo a guardare il mare infinito che sei tu, proprio tutte queste meravigliose cose dette oggi da Gesù, scolpite nella tua vita, immaginiamo le tue reazioni, come erano dinanzi a tutto quello che hai vissuto. Immaginare la tua dolcezza, sempre vissuta al sole divino, la dolcezza tua, la dolcezza di Maria è qualcosa di inimmaginabile a mente umana, perché è proprio riflesso cristallino dell'amore, della dolcezza e della bontà divina. La corona di 12 stelle sul capo, ecco, ma una tempesta di stelle nell'animo, insomma, che hanno le tue innumerevoli virtù incontabili, incalcolabili e tra l'altro inimmaginabili nella loro grandezza e potenza. Bene, tutto questo è per noi, noi possiamo essere felici e si può essere realmente felici in questo mondo ad immagine tua, tante volte l'abbiamo visto. Chi lo vive comincia a capirlo. Essere felici non vuol dire essere senza croci, senza problemi, ma significa anche avere una montagna anticroci e di problemi. L'uomo carnale lo chiama San Paolo, l'uomo psichico, l'uomo mondano non capisce, dice ma se io ho tutti questi problemi come faccio a essere felice? Chi conosce queste cose lo vive e capisce benissimo che non è incompatibile la felicità con tutto quello che accade in questa vita. Basta trovare il segreto per farla vivere e regnare in noi, come facesti tu e come chiediamo di aiutarci a fare. Fiat Ave Maria Grazie Grazie Grazie